La conduttrice Mediaset fa una confessione sullo figlio Gabriele.Oltre ad essere una brava conduttrice e produttrice televisiva, Maria De Filippi è anche una brava madre Anche se non lo ha messo al mondo lei, Quien Mari è molto legata a Gabriele Costanzo, il ragazzo che qualche anno fa, ha adottato insieme al marito Maurizio E a proposito del figlio, la presentatrice ha fatto una rivelazione intima sul giovane Andiamo a vedere di cosa si tratta.Maria De Filippi svela un aneddoto che riguarda il figlio Raramente Maria De Filippi rilascia delle interviste, e quando le fa non spiattella a tutti le sue cose intime Ma in una recente, ha fatto una clamorosa eccezione parlando di qualcosa di particolare che il figlio Gabriele Costanzo La conduttrice di Uomini e Donne ha confessato, che un giorno venne chiamata dai professori del ragazzo Lei era a conoscenza che il figlio studiasse ogni pomeriggio con una sua amica, ma dal rendimento a scuola, facevano tutto tranne stare sui libri Con un tono ironico, la moglie di Maurizio, ha detto questo due punti.Volli vederci più chiaro? Alla domestica che vive con noi chiesi cosa diavolo facesse Gabriele con quell'amica Lei mi rispose che se ne stavano tutto il giorno chiusi in bagno, con le candele Maria De Filippi parla del figlio, e del marito Maurizio Costanzo.Un è ne particolare abbastanza intimo che riguarda Gabriele, e che la madre Maria De Filippi stranamente ha spiattellato al pubblico La conduttrice ha raccontato anche che appena scoprì la verità era molto arrabbiata quindi informò il marito Ma quest'ultimo l'ha lasciata di sasso, rispondendole in un modo inaspettato due punti.E allora? Sta sperimentando, cosa c'è di male? La clamorosa dichiarazione di quei en mari farà infuriare il ragazzo, o si farà una risata anche lui? Molto probabilmente avrà avuto la seconda reazione Sous-titrage ST' 501